Davide Caparini è il deputato più prolifico di questa legislatura, sono 77 le proposte di legge, innanzitutto come mai così tante? Perché c'è bisogno di fare tante norme che cancellano altre norme, nel senso che io ho improntato la mia attività legislativa soprattutto nel cancellare leggi che trovo ingiuste, inique, più che farne di nuove perché siamo in un paese ipernormato e sotto questo punto di vista quindi dobbiamo diminuire e non aumentare il numero delle leggi. Dopodiché semplificare è un nostro obiettivo da sempre e quindi gioco forza, l'unico strumento che un parlamentare ha è quello della proposta di legge. Quali? Quelli che le stanno più a cuore? Ce ne sono veramente tante, quelle della semplificazione, dalla cancellazione del canone RAI o a quella della cancellazione del Ministero dell'Agricoltura che in entrambi i casi i cittadini si sono espressi negativamente, ovvero molti anni fa, ormai quattro lustri fa avevano bocciato sia il Ministero dell'Agricoltura sia il canone RAI e purtroppo entrambi sono ancora lì e sono tutti sulle nostre spalle. Dopodiché ci sono tanti enti intermedi che costano una marea di denaro ai contribuenti e nulla producono se non burocrazia e clientelismo e anche lì bisogna essere drastici e tagliare netto. La lotta adesso è cercare di portarla in aula? Ma guarda, io oltre alle proposte di legge ovviamente faccio tanti emendamenti, quando ci sono dei provvedimenti che toccano gli aspetti di cui mi occupo ovviamente faccio questi emendamenti, sono le nostre battaglie da sempre a seconda della sensibilità e dell'occasione politica a volte qualcosa riusciamo anche a portare a casa. Grazie